Organizzazione, diffusione e promozione sono queste le tre parole chiave che l'ombudsman delle Marche Italo Tanoni ha scelto per sintetizzare la relazione sull'attività svolta nel 2013 presentata a Palazzo delle Marche. A tre anni dall'insediamento l'autorità di garanzia regionale, dopo aver superato le fasi del rilancio e del consolidamento, si è dedicata alla messa a regime della struttura, raggiungendo il pieno funzionamento degli uffici e alla promozione dei suoi servizi con una campagna di informazione multimediale su tutto il territorio. Il bilancio del 2013 è un bilancio in chiaroscuro perché ci sono dei settori come la difesa civica e i garanti dei minori che hanno subito una leggera flessione, 18%, quella più consistente è una difesa civica, i garanti dei minori è un 0,4%, quindi in misura minimale. Ci sono altri settori come quello degli immigrati più 2% e quello dei detenuti più 5% che invece presentano un numero di casi più consistenti. Il 2013 si chiude anche con un bilancio positivo però sul piano soprattutto della nuova legge regionale sulle competenze dell'ombudsman perché alcuni ambiti come appunto quello dell'infanzia, dell'adolescenza e della difesa civica sono stati enormemente potenziati come competenze e come funzioni. Il 2013 segnala un lieve calo del volume complessivo di attività con 436 casi aperti rispetto ai 454 del 2012. I fascicoli risolti e archiviati sono stati 326 di cui 251 con esito positivo e 75 di non competenza dell'autorità o senza esito. Sebbene continui ad essere la difesa civica il settore che tratta il maggior numero in assoluto di reclami, i settori in crescita rispetto agli scorsi anni sono quello della difesa dei diritti degli immigrati e quello della tutela dei detenuti. Come modalità di accesso la posta elettronica ha superato la posta tradizionale e il portale dell'ombudsman ha raggiunto il traguardo dei 40.000 visitatori con una media di 34 accessi giornalieri. Ho detto anche in altre occasioni che particolarmente in un momento così complicato, difficile e delicato anche per la nostra comunità marchigiana con questa crisi che morde ferocemente ormai da molti anni l'impegno del Consiglio regionale per difendere potenziandola la figura dell'ombudsman che raggruppa in sé diverse competenze oltre alla tradizionale difesa civica alla tutela dei minori, dei detenuti, degli immigrati è un impegno sul quale non possiamo abbassare la guardia.